Torna a riunirsi la Commissione Sviluppo Economico, quali sono i principali temi che affronterete? Diciamo finalmente, torna a riunirsi la seconda Commissione, ringrazio per la fiducia che mi hanno dato i colleghi consiglieri a rieleggermi Presidente. Ci sono temi urgenti, importanti come quello del calendario venatorio, che le associazioni venatorie, cacciatori tutti, aspettano di licenziare il testo il prima possibile per fare un calendario venatorio che sia all'altezza della situazione, così come alcune leggi legate ad esempio alla proroga dei vongolari, come altre leggi sulla duropatia, legate alla disciplina del testo del commercio e ci sono molte cose da fare. Ovviamente diverse leggi sono in Commissione, proposte di leggi anche legate a proposte dei singoli consiglieri che piano piano andremo a smaltire. Certo questi mesi di stop hanno un po' pesato sull'attività legislativa della Commissione che se non certo sapremo recuperare.